Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi mi trovo all'antena del nerd di Fonte Nuova e mi sono accorto che in questo box sono rimasti esattamente 4 pacchetti di Orizzonti di Modern. Questa è un'edizione molto particolare, non solo perché, come potete vedere, il prezzo è più alto dei pacchetti normali, ma è un'edizione che salta allo standard e va direttamente in Modern. E siccome è uscito da poco il van, speriamo di non beccare Ogak. Grazie a tutti. 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 Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.